La Direzione Investigativa Antimafia di Trapani ha notificato il decreto di confisca di parte del patrimonio immobiliare societario riconducibile a Carmelo Gagliano, cinquantenne marsalese, imprenditore nel settore dei trasporti. La proposta di applicazione della misura di prevenzione avanzata dal direttore della DIA, Nunzio Antonio Ferla, è stata accolta dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale di Trapani che ha emesso il relativo provvedimento al termine delle indagini condotte dalla DIA trapanese, d'intesa col procuratore aggiunto Bernardo Petralia, coordinatore del gruppo misure di prevenzione della DDA di Palermo. Tra i beni confiscati risultano terreni, fabbricati, l'intero capitale sociale e il compendio aziendale della società LGF Trasporti, con sede a Mazzara del Vallo, veicoli e rapporti bancari per un valore di oltre 1.800.000 euro. Per Gagliano è scattata anche la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di dimora abituale per tre anni. L'uomo ha sempre svolto l'attività di autotrasportatore. Scevro da condanne per fatti di mafia, il suo inserimento negli ambienti malavitosi è legato al suo ruolo di amministratore, quale presta nome della società cooperativa di trasporti AFM Autofrigo Marsala, nella quale, scrive la DIA, vantava cointeressenze l'esponente mafioso marsalese Ignazio Miceli, già sorvegliato speciale di pubblica sicurezza, del cui patrimonio post-mortem è stata di recente disposta la confisca dal Tribunale di Trapani, sempre su proposta del direttore della DIA. La società AFM Autofrigo Marsala è stata al centro di una vasta inchiesta giudiziaria condotta dalla DDA partenopea sulle infiltrazioni mafiose nel circuito della grande distribuzione ortofrutticola dell'agropontino. La procura distrettuale di Napoli ha portato alla luce, nei mesi scorsi, all'interno del mercato ortofrutticolo di fondi in provincia di Latina, uno dei principali d'Italia, la spartizione degli affari da parte delle organizzazioni malavitose ed una monopolizzazione del settore dei trasporti su gomma del cosiddetto clan dei casalesi. Quelle indagini svelarono le infiltrazioni e condizionamenti del clan dei casalesi alla Schiavone nelle attività dei principali mercati ortofrutticoli, evidenziando inoltre che il clan per aggiudicarsi il controllo esclusivo nel settore strategico dei trasporti dei prodotti sulle tratte DAE per la Sicilia aveva stretto una vera e propria alleanza con emissari imprenditoriali di Cosa Nostra Siciliana facenti capo a Gaetano Riina, fratello del più noto Salvatore, da anni residente nel Trapanese. Beneficiario principale sul versante siciliano della provincia di Trapani dell'accordo affaristico mafioso tra gli esponenti camorristi dei casalesi e mafiosi trapanesi spiega la DIA sarebbe stato appunto l'impresa AFM Autofrigo Marsala gestita da Ignazio Miceli e Carmelo Gagliano.